Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a giocare un'altra volta a... Indovinate voi? Io non parlo. No dai, allora scherzo. Allora, oggi andremo a giocare a... Supermarket. Ovviamente il negozio è chiuso e questi tre... Tu che vuoi? Assumere? Assumere? Ho capito il mio negozio è il negozio più bello del gioco, però... Ora, penso... Vabbè, vediamo quanto vogliono. Io ho 70 centesimi, eh? Eh, eh, sono con zero fulmini. 268 euro, dove li prendo? Vattene, vattene a casa, vai, a te te le do. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai a casa, vai a mangiare il pane con la pappa. Vai, vai. Allora ragazzi, questo qua è il mio negozio nuovo. Perché l'ho modificato e l'ho fatto molto più grande. Mi sapevo pensare che il negozio era tipo così. Muro, tutto così. L'ho ingrandito con i soldi che proprio, ragazzi... Vedi, quando questo negozio l'ho aggiornato, ho fatto tutto col mio sudore delle dita. Comunque, ho riempito tutto. Quindi qua ho messo due bellissimi frighi, perché... Sono belli i frigoriferi. Due... Cioè, era più bello se c'era scritto qua Coca-Cola. Comunque, sono riempiti tutti. Anche se sono qua due, non posso più aggiungere niente. Quindi sono riempiti. Qui, qua abbiamo pollo e altro pollo gelato. Ora, qui abbiamo tutte le cose. Quasi tutto riempito. Quasi, però non si... Gli occhiali ancora devo arrivare al punto. Qua abbiamo la pasta Barilla. Bellissimo. Altro tipo di pasta fallocca. Tutto abbiamo, ragazzi, tutto. Le mele. Però comunque, ragazzi, devo comprare altre cose. Siccome ho speso tantissimi soldi per comprare tutta questa merce, non mi è bastato per comprare le mele. Allora, ora, il nostro compito è aumentare i prezzi. Sì, ragazzi, aumentare i prezzi. Perché io voglio vendere il doppio, così almeno... Così almeno, ragazzi, come vi posso dire... 6 euro bastano per quello. 13 euro per il gelato basta. 6... 4 euro per l'acqua. Troppo, troppo basso come prezzo. Eppure è buono per il gioco. 6 euro per il pane. Pochissimo. E, vabbè. Comunque, 7 euro per il sale. Dai, ci sta. 5 euro per questo riso. Se non sbaglio il riso. 6 euro di olio. Ora come ora l'olio costa tanto. Comunque, va bene. La pasta qui, 15 euro. 7... E... 5 euro questo. Abbiamo detto di sì. 8 euro. Ok, ragazzi. I prezzi sono aggiustati. Il prossimo sarà sicuramente quello. Io aspetto qua. Ah, comunque... Ah, è già entrata una. Comunque, devo comprare un nuovo frigorifero appena ho i soldi. Appena mi faccio i soldi, mi compro un nuovo frigorifero. Ma... Congelatore, volevo dire. E metto questi due. E metto questi due nel secondo. Perché ho due frigoriferi. Eh, posso non avere due congelatori? No, 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 non posso non avere... Sì, signora. Aspettate quanto abbalzo il volume. Ok. Scheda, carta, chi tu chi è? Plastica, carta. Ok. E 30. Male giornata? Ok. Controlliamo quello che fanno questi trace points. Allora. Tu che fai? Che mi sembri... Quello là... Di quel film Spi... 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 72 euro! E già 99 euro. Ok. Tu che cosa volete? Tu non avere soldi. Ok. Anche potevo aggiungere 5. Però comunque va bene. E ora buona giornata. Comunque ragazzi... Comunque ragazzi... Ehm... Vedi che io mi secco... Io mi secco dopo un poco perché... Il fatto è che poi... Le persone sono sempre le stesse. Mi secco, mi secco. Siamo già a 190 euro. Quindi io direi... Di andare a vedere... Quanto costa... Il congelatore. 400 euro. Ce lo possiamo soltanto sognare in questa cifra che abbiamo in questo momento attualmente. Signora, comprate che devo comprare il congelatore. Allora. Congelatore che poi... Vorrei fare così questo. E questo lo sposterei più qua e metterei due congelatori. Uno qua e uno qua. Ci sta ragazzi. Non dite... Casette. Che ci sta. Allora. Signora bella. Quanto? Ma tu sei pazza. Comunque dai. Ok. 7. 82. A posto. Allora. Che poi è bello sto gioco perché è originale. Come posso dire. Non è un gioco che... Che è stato creato che ha 2,2 stelle o recensioni nella... Su Play Store. Stavo facendo 3 volevo dire. Che sto facendo? Aiuto! Ok. Allora. 4 e 5. Ok. Buona giornata. Tu polletto? E sei un'altra polletta. Pollettina. Ciao. Tu che vuoi? Che vuoi? Allora. Ok. Ciao bella. E poi... Se vedo che stai arrivando tutti. Vuol dire c'è un incendio. Altro schifo di aggiornamento. Perché l'incendio mi fa perdere i clienti. E... Brutta. Che cavolo sto facendo la stessa cosa di prima. Ok. Ciao. Mi fa uscire dalla cassa. Ok. Così se c'è un incendio. Ho comprato l'estintore ragazzi. No. Io ho messo tanto. A posto di cliccare 1. Ho messo 5. Tipo perché il mio dito è enorme. Un dito Bigfoot. E quindi a posto di cliccare 1. 4, 7. 85. Buona giornata. E... Allora. Gianno preso 3, 2 mele. Sì. Prendete. Tanto compro e fissa. E... Sai qual è la cosa bella ragazzi? Sapete qual è? Che solo un prodotto di questo costa 5,78. Non tutti in tutto costa 5,78. Solo uno di questo 5,78. Quindi 5,78. 5,78. 8, 5,78. 8, 5,78. Allora. Qual è il fatto? Non fate sporcizia. Allora. Sentite belli. Se volete cattare ca. Niente sporcizi. Ora. Stavamo dicendo. 4, 4 e 78. Allora. E... Ecco fatto. Ah tu pasta barilla. Tu gradisci barilla. E... Ok. No. Ok. Poi. 10, 12. Buona giornata. Ah. Le chips. Ti piace. Ti piace chips. E... Ok. Buona giornata. Questa vi immagino non vi devo niente. Ah no. Questa è quella carta. 7,3. Bello che si piegano tutti per darti la carta. Vediamo se questa dà la carta. Tadam. Hai visto? 6 e 2. Buona giornata. Ah. C'è qualcuno nel mio negoziettino bellino. Salve. Segna ora ne. Comprate da me. Che questo è il negozio Ettore's Place. No scherzo. Allora. 25 e 25 e 20 volevo dire. Ho visto 25. Rosso, verde, marrone, bianco, bianco, bianco. Red. Allora. Vediamo. Qua. Qua. Eh. Qua. Basso sinistra. C'è red. Green. Brown. E white. Mamma che inglese. Eh. Buona giornata. Mamma che sono troppo bravo l'inglese. Poi pink. C'è rosa. È yellow. È giallo. Red. Red. Claire mi pare che vuol dire o trasparente o chiaro. Non mi ricordo bene. Allora. 6 e 5. Buona giornata. Mamma quante cose figlio. Mamma già siamo 85. 885. Ok. Ok. Buona male giornata. E tu che vuoi? Tu. Volere. Che. Faccio questo. E buona giornata pure a te. L'olio. Solo l'olio ti compri. Vai a comprare un'altra cosa. 1.050 euro. Non avrei detto Dio. Per 6 euro l'olio. Allora. Allora ragazzi. Vi volevo dire che. È stato. Ma che. Quante cose sto dando. Aspetta ragazzi. 43. Ah. Non 65. 62. Ok. Va bene. Ok. Ragazzi. Poi comunque. Mi è piaciuto questo fatto che. Yashin. Yashin. Non mi ricordo. Poi. Nel prossimo video. Spero di salutarlo. E. Ha detto. Che lui. Vuole che io. Giochi a. A supermarket. Allora. Allora. Gli è piaciuto dico. Oppure. Quanto per non farmi sentire. Col gioco volete. Giochi. Ma. Il nuovo. Il nuovo. Aggiornamento. Delle persone. Allora. No. Comunque. A parte scherzi. Mi ha fatto piacere. Che ha scritto. Questa cosa. Io sono contento. E allora. Sono pure contento. Di dare. I soldi a questo. Così se ne può andare. Perché io ho dato 50. No. Aspetta. Ok. Ok. E 28. Quindi. Ok. Ciao bello. Tu carta. O mai lo so. Questo gioco. E 17. Ciao bello. Cura a te. Che poi ragazzi. Guarda. Mi stanno rubando. Ma sono. Dei piragna. Sono. Siete dei piragna. Si è comprato il tè. Sto coso. Che non so. Che cos'è. Che cos'è. Questo cos'è. Questo è shampoo per capelli. Ma non lo so. Perché comunque. Vendono shampoo per capelli. Aspettate signore. Aspettate. Quanto vado a vedere se. Oh è finito. Ok ragazzi. Posso iniziare a raggiungere questo. Signora. Signora. Sto mettendo. Tipo. Non so. Come si sono questi cosi. Ok. Ora. Buttiamolo. Aspetta. No. State là. State là. C'è incendio. Andatene. Però state. Mamma che fila. Che aiuto. Che fila. è morta bene. Morta bene. Sette. Oh. Non ti arrabbiare. No. Aprire. Aprire. Open. Ok. Possiamo buttare. E possiamo iniziare. Tu che vuoi il burro. 6 euro e 16. Ciao. Tu. Uh. Ti piace il riso. Come si fa che vuoi fare la dieta tu. 7 euro e 83. E 83. Ciao. Che poi. 20. E 35. Mamma inizia l'estate ragazzi. Tra un poco di. Di giorni. Eh. Guardate. Che io sono molto contento. Eppure morto. Contento. Allora. Eh. Quanta. Eh. 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 Vabbè. Comunque. 23. No. Io ho messo 25. Già. Mi secco. Già. Oh. State andando a comprare la mia delizia nel frigo riferro? Bravi. 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 Quelli mi sa che sono piselli comunque. Non lo so. Eh. Allora. Si. Compra. Compra. Eh. Bannaio. L'ho raccolto io. Perché? Che vuoi? Vuoi che. Lo sai che forse ragazzi. Forse. 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 83. È troppo ragazzi. 60. Vediamo se questo qua mi dà un'offerta migliore. Si. Ciao. Bello. Vai. 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 Su. Su. Ah. E ragazzi comunque io vorrei non fare sempre questo lavoro dietro la cassa. Bravo. Fai a tipo. È tipo violino. Comunque. Eh. Salve signora. Allora. Vediamo il mondo. Questo qua è un notello. Qui appaiono i cristiani. Ne da scomparono. Qua. Sette euro. Salone. Beh. 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 Comunque ragazzi. C'è. pure nel vecchio aggiornamento. Ma nel nuovo c'è. 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 Che c'è una casa lì in qualche parte. Che è sperduta. Questo foglio non dice niente. Almeno il creatore poteva fare qualche cosa. Che c'è una casa lì in qualche parte. Qui dice. Ho pagamento. Allora. Gentleman. Gentleman. Che bella. Stamana che costa una Mercedes. No scherzo. Rent. Forment. Per. Rent. Sono giapponese. Oh. Oh. Nabbè del tuo dio. E questo qua mi ha lasciato tutto qua infenduto. Non gli do più un cazzo. Mi hanno fatto arrabbiare ora. Ora basta. Sul serio. Mi hanno fatto arrabbiare. Cioè. Ho cacciato 85. Quanti cavolo erano i soldi. E questo sa fu io. Mamma mamma. Che nervoso. Che vuoi signora. Aspettate. Nabbè del tuo dio. Mamma signora. Mamma. Un centesimo in più. Vattene. Basta che te ne vai a quel paese. Tu che vuoi. 72 euro. Quasi non me le dai tutti. 7 e 2. Quello se n'è andato. Alla prossima. Mamma mia. Appena li vedo. Mamma. Mamma. Dove sono? No. Quello non c'entra niente. Mannaglia ragazzi. Mi hanno fatto innervosire. Mi hanno fatto innervosire. Mmm. 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 Ah. E che volete ora? Allora. Vediamo. In meno. 262. Ma tu che. Tu che cosa vuoi? 255. E tu che cosa vuoi? Tu eri l'ultimo. Quello che se n'è andato. Di nascosto. Senza dirmi niente. 346 euro. Ma vaffanculo. Ciao. Mamma che sono pazzi. E allora ragazzi. Salve bella signora. Entrate qui dentro. Il negozio più bello d'Italia. Ovviamente. Oh. No. Ah certo. Va venire il successo. Noida. Certo. Ah no. Entrata. Questo è un fantasma. Ve l'ho detto io. È entrato da là fuori. Perché sta andando avanti. Gli occhiali. Nabbele detto tu. E che sta facendo tu qua? Fai la fisarmonica? Mamma signora. Non avete comprato niente. Io sono povero. Guardate. 1475. 78. Ok. Qua sono i tuoi occhiali. Comunque li voglio ragazzi. Li voglio. Vediamo se li posso comprare. Quanto costano soprattutto. Allora. Ehi. Ti friccio. No. 1600 euro. Non li posso comprare ragazzi. Occhiali da sole. Occhiali da sole. Ragazzi. Sai che cosa vi dico? Non li compro. Perché prima. Voglio. Rendere il negozio più grande. Comprare. Ah. Il. Il congelatore. Allora lo compro insieme. Poi vuoi chiudere il video. Perché. 18 minuti. 79. 60. Oh. Mi hanno fatto arrabbiare ragazzi. Davvero. Mamma mia. Mi hanno fatto arrabbiare. E. E. E' 21. Io devo 25. Perché sono buono. Aspettate. Ora chiudo il negozio. No. Quella sta venendo qua. No. Ma perché? Eh. Allora. 24. Luca. Per chi non fai così? Oh. 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 Ora sento che c'è un incendio fuoco. Mamma mia. Un incendio fuoco. Per cadere. Ok. Ok. A te non ti devo niente? No. 1 euro e 34. Eh. Vabbè. Dio è grande. Ok. Tu carta? Eh. Certo. Si vede che sei ricco. Allora. 36 e 34. Ora. C'è ancora quella? Ok. A posto. Ora. Pulisco il negozio. E direi di comprare finalmente il. Come si chiama? Il. Ok. 400 euro. Comprato ragazzi. Ah. L'ho comprato. No. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. Ragazzi. È arrivato. Né. Allora. Allora. Io direi di metterlo tipo qua. Però ora. Se non entra qui. Lo stesso spazio è quello. Come facciamo? Mettiamolo un attimo qua ragazzi. Perché? Ora proviamo. Non è che non proviamo. Il negozio è chiuso. Mettiamolo più stretto possibile. Mettiamolo più stretto possibile. Mettiamolo più stretto possibile. Sempre. E no. E no. Perché comunque ragazzi. Non è che dite. C'è tanto spazio. Oh. Uso altri soldi. Per allargare il negozio. Però mi piace così ragazzi. Io non voglio. Se allargo il negozio. Che succede? Uno. Che perdo i soldi. Perché comunque. Penso che in qualche modo. Lo potrei fare entrare. Due. No. U. No. 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 Eh. Eh. No. Non lo voglio un pochino. Eh. Ok. Ok. Oh. Oh. Dai. Vai. Vai. Sì. Ok. A posto ragazzi. L'abbiamo fatto. Signore. Ancora. Ancora voi. Non mi fa dare a bere. Sono contento. Ok ragazzi. Noi ci vediamo. In un nuovo prossimo video. Con il nostro bellissimo negozio. Io dico nostro. Perché è pure vostro. Commentate. Su quale giochi. E consigliatemi giochi. Che potrebbero essere. Quella questi. Perché sì. Esiste pure. Con lo stesso creatore. Di questo gioco. Il venditore di telefoni. Elettronica. Il venditore di farmaci. Però comunque poi sempre spero che apri una farmagia. Perché comunque ragazzi. Quando rifarò un'altra volta questo video. Ci sarà altra merce. Quindi. Noi ci vediamo in un nuovo. Prossimo. Video.